Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra consueta pillola sull'indice di Milano in due minuti, settimana positiva per Piazza Affari che guadagna oltre il 2,30% e si riporta sui massimi delle ultime settimane. Avevamo avuto già un'apertura positiva in gap lunedì, come vedete, un'apertura che ci ha riportato a testare immediatamente i 28.500 punti, apertura in gap up anche martedì, gap poi chiuso e si è ritornati sui livelli di apertura, meno bene mercoledì, si è sentita chiaramente l'attesa per la riunione della BCE nella seduta di giovedì, tant'è vero che nell'arco della seduta di mercoledì siamo scesi a chiudere il gap che era stato lasciato aperto nella seduta di lunedì. La seduta di giovedì si era aperta sotto la chiusura di mercoledì, quindi con un sentiment probabilmente non molto positivo, poi dopo la dichiarazione dell'incremento dei tassi di 25 punti base e le parole della Lagarde, vedete la bellissima candela verde che ha fatto Milano che ha registrato un più 1,37%, si è riportata sopra i 28.750 e addirittura abbiamo avuto un'apertura in gap up oltre i 29.000 punti nella seduta di venerdì, gap che è stato chiuso e di conseguenza con la chiusura a 28.895 Piazza Affari ha portato a casa quell'incremento di cui vi abbiamo raccontato. Il massimo della settimana come vedete è stato superiore al massimo del massimo relativo precedente, il minimo è stato comunque superiore al minimo relativo precedente, per cui sta continuando ad essere disegnato quel piccolo trend rialzista, auguriamoci adesso che essendoci chiusi alle spalle subito il gap di venerdì si possa già nella seduta di lunedì tornare sopra i 29.000 punti per tornare ad ambire al testo dei 29.750 il cui superamento finalmente potrà sancire un allungo verso area 30.000 punti, area 30.000 punti che a Milano non si vede dal 2008. Con questo è tutto, vi auguriamo un buon fine settimana, ci è gradito un like per l'analisi naturalmente e alla prossima settimana.